dall'ufficio informazioni del governo della repubblica democratica tedesca giovedì 5 luglio alle ore 9 50 circa presso il porto di trepto il motoscafo a gas della compagnia di navigazione privata weise ha subito una grave esplosione c'erano 127 persone sulla barca per lo più bambini in età scolare la barca era in viaggio verso hessenwinkel nonostante le misure di soccorso siano state immediatamente dispiegate con tutte le forze disponibili non è stato possibile evitare che 25 bambini e adulti subissero ustioni mortali o annegassero e un alto numero riportasse ferite gravi o lievi questo è camposanto il podcast dedicato a chi ama i cimiteri io mi chiamo giulia de pentor e adoro leggere le storie scritte sulle lapidi osservare le fotografie sbiadite dal tempo immaginare le vite degli abitanti di queste immense città ultraterrene in questo podcast vi accompagnerò alla scoperta dei cimiteri che più mi hanno colpito raccontandoveli attraverso i miei occhi e le mie sensazioni sono andata ad abitare a berlino il 13 gennaio del 2011 ero reduce da una tremenda bronchite che mi aveva lasciato spossata e ancora mezza febbricitante il primo giorno dopo una colazione da sanctoberols dove andavo per attaccarmi alla wifi e cercare lavoro un po preoccupata avevo pensato che non sarei riuscita a reggere a lungo in quel freddo terribile quell'inverno le temperature avevano toccato parecchi gradi sotto lo zero e se ripenso a quei giorni ricordo principalmente la mia incredulità di fronte a quel gelo che mi faceva congelare le sopracciglia quando camminavo per strada a berlino poi con una pausa sabbatica di un anno in cui sono andata in nuova zelanda ci ho abitato fino all'estate del 2020 gli inverni col passare degli anni sono diventati più miti e io ho smesso di andare a sanctoberols che nel frattempo era diventato una specie di bar per start up per in vacanza vabbè lasciamo perdere quando io alessio abbiamo lasciato berlino non l'abbiamo fatto perché non le volevamo più bene anzi è un po difficile da spiegare ma credo che sia successo un po come con quelle relazioni in cui si cresce in modi differenti e a un certo punto ci si rende conto che le vite hanno preso strade diverse l'affetto rimane ma non è più sufficiente quando siamo partiti si era al termine del primo lockdown un periodo che per noi italiani e italiane all'estero è stato particolarmente incerto e doloroso come per tutti è non intendo sminuire le emozioni di nessuno ma ricordo benissimo che con i confini tra i paesi chiusi noi ci chiedevamo continuamente quando e se saremmo riusciti a ritornare a casa so che sembra esagerato dirlo ora ma se ricordate bene la confusione di quel periodo e le cose incredibili che accadevano forse riuscirete a capirmi da un giorno all'altro la nostra vita si era capovolta c'erano il coprifuoco e limitazioni per fare qualsiasi cosa diciamo che se a un certo punto ci avessero detto che i confini sarebbero rimasti blindati per qualche anno forse in quei giorni strani e inquietanti non ce ne saremmo stupiti più di tanto quando quindi nell'estate del 2020 la morsa si è allentata ci è sembrato di non poter perdere l'opportunità volevamo tornare in italia ed era quella la nostra occasione forse l'unica occasione siamo partiti all'alba in un giorno dell'estate del 2020 con la macchina piena di piante e scatoloni e io ho salutato la mia casa di luschner strasse in lacrime dal finestrino ecco forse adesso capirete perché ritornare lì a distanza di due anni mi aveva agitato tanto proprio come con quelle relazioni in cui si continua a volersi bene ma si prendono strade diverse io ero agitata al pensiero di rivedere la mia berlino la città che più di tutte le altre in cui ho vissuto per me è stata casa cosa sarebbe successo quale sarebbe stata la mia reazione mi sarei pentita di essere ritornata in italia sarei stata malissimo al pensiero di cosa sarebbe potuto succedere se fossi rimasta lì come mi avrebbe accolto la città sarebbe stata furiosa con me per averla lasciata in fretta e alessio come avrebbe preso lui questo incontro insomma i dubbi e le domande i pensieri e le paure erano tanti a berlino ci siamo andati in macchina e le 11 ore di viaggio mi hanno lasciato il tempo di riflettere di crogiolarmi di prepararmi e di immaginare scenari nella mia mente poi sono arrivata e ho subito capito che mi ero preoccupata per niente la mia assenza di due anni era qualcosa di impalpabile direi era come se non me ne fossi mai andata berlino mi aveva accolto con gioia sgranando gli occhi e mostrandomi il meglio di sé felice di rivedermi qualunque cosa significhi felice per una città come lei ho ritrovato la neve il freddo quel freddo le passeggiate con le lacrime congelate e sembrava che tutto si fosse perfettamente allineato per dirmi che volendo potevo anche rimanere lì ecco se mai tra 200 o 300 anni qualche storico della comunicazione deciderà di analizzare il mio podcast speriamo che avvenga dirà che questo episodio è la mia lettera d'amore per berlino comunque dicevamo sono arrivata nel tardo pomeriggio quando già c'era buio ho intravisto da lontano dalla macchina la colonna della vittoria e la porta di brandeburgo luoghi in cui per dire la verità sono stata una manciata di volte in dieci anni di vita in città e subito ancora prima di scendere ho ritrovato tutto e ho sentito quell'atmosfera la stessa atmosfera che mi aveva accolto quando ero arrivata lì nel gennaio del 2011 era tutto così normale naturale che quella sera io e alessio siamo usciti siamo andati a mangiare in uno dei nostri vietnamiti vegani preferiti e siamo andati a vedere casa nostra al numero 71 di luchner strasse dicevo che fa molto freddo ma io amo questo tempo mi ha mancato tantissimo mi mancava il freddo non potete neanche immaginare quanto io penso di essere stata una delle poche se non l'unica italiana berlino che non si è mai lamentata del tempo cioè io proprio qua sto bene un bel freddo secco più di quelle che ti taglia il fiato tra un po avrò il naso rosso le mani già non me le sento più ma sono felice se mi avete seguito su instagram in quei giorni sapete che una buona metà della mia settimana berlinese è stata dedicata all'esplorazione di cimiteri cimiteri che bene o male avevo già visto anni prima sono tornata a friedenau a trovare marlene dietrich e almuth newton mi sono persa tra i vialetti del dorothan stadt alla ricerca di brecht hegel e fichte e poi sono andata a vedere le tombe dei fratelli grim a schoneberg e poi sono anche tornata nel mio cimitero dei buddenbrock il cimitero che si trovava vicino all'ufficio dove lavoravo dove avevo trascorso tante pause pranzo e avevo addirittura ricevuto una promozione volevo anche tornare a grunewald nel cimitero dei suicidi di cui vi ho parlato in una puntata di camposanto ma una passeggiata in solitaria nella foresta con quel freddo e la neve non sarebbe stata proprio una saggia idea sarei ancora lì a vagare in mezzo alla neve tipo jack torrens in shining ma se avete visto le mie storie sapete già tutto la puntata di oggi è dedicata all'unico cimitero che non avevo mai visitato il central friedhof di friedrichsfeld quando in quel lontano 2011 ero in città da poche settimane avevo deciso di approfondire le mie conoscenze scolastiche sulla guerra fredda su berlino est sulla stasi e in generale sulla vita della deutsche democratische republic mi avevano consigliato di visitare qualche luogo simbolo come l'ex prigione della stasi il babylon la libreria carl marx e altri luoghi che si trovano in quegli articoli tipo le dieci cose da vedere per capire l'ostalghì ostalghì cioè la nostalgia dell'est per chi se lo stesse chiedendo nessuno mi aveva mai raccontato nulla dell'immenso cimitero di friedrichsfeld che si trova a lichtenberg a pochi passi dalla prigione che vi ho appena citato il cimitero nasce nel 1881 come gemeinde friedhof cioè cimitero municipale dove anche chi non può permettersi le spese di un funerale trova degna sepoltura grazie alla municipalità di berlino che sostiene i costi le cose iniziano a prendere un'altra direzione quando nel cimitero viene seppellito carl liebknecht il fondatore del partito social democratico tedesco da questo momento in poi il central friedhof diventa l'ultima dimora di tutti i più importanti leader social democratici socialisti e comunisti nonché di alcuni importanti esponenti politici della ddr la deutsche democratic republic come dico sempre è osservando i rituali della morte che possiamo capire davvero le persone in vita quindi mi sono detta che per completare le mie conoscenze su quel periodo dovevo assolutamente esplorare quel cimitero il giorno prescelto quindi vado alla stazione di a kescher markt prendo la espan verso est e scendo tutta pimpante alla stazione di friedrichsfeld il cimitero si chiama friedrichsfeld quindi sarà lì no ecco a quel punto entra in scena il mio proverbiale senso dell'orientamento anzi la mia proverbiale assenza di senso dell'orientamento esco dalla stazione e capisco che c'è qualcosa che non va davanti a me c'è un cartello che dice che il friedhof il cimitero è a 850 metri da lì non mi perdo d'animo però seguo l'indicazione e devo dire che questo piccolo imprevisto mi aiuta ad addentrarmi ancora di più nell'atmosfera che sto cercando per arrivare infatti devo attraversare una specie di quartiere residenziale di plattenbau dalmeno 150 appartamenti l'uno costeggio una super strada dove non si vede anima viva e poi finalmente trovo il grande viale d'ingresso dove riesco a immaginare le imponenti folle dirette al camposanto per i funerali solenni dei leader del partito subito appena avarcato il cancello ha visto una solenne stelle commemorativa e capisco di avere di fronte il guidance dette del socialisten il memoriale dei socialisti mentre mi dirigo verso il monumento ne leggo brevemente la storia inizialmente questo è un rivoluzione stang mal un monumento alla rivoluzione e si trova dall'altro lato del cimitero il suo progetto è firmato dall'architetto van der rohe il partito comunista che glielo commissiona vuole commemorare le vittime delle rivolte del 1920 il monumento viene inaugurato nel 1926 ma a vita brevissima perché nel 1935 quando hitler era al potere viene distrutto passano quasi 20 anni e nel 1951 dopo una serie di vicissitudini finalmente viene ricostruito nella forma dell'odierno memoriale dei socialisti che sto per visitare adesso mi avvicino al centro della struttura circolare alzo lo sguardo e leggo la frase scolpita sulla stele di totem mane nuns i morti ci ricordano all'interno dei due cerchi concentrici che costituiscono il monumento ci sono i morti traslati dal monumento la rivoluzione è distrutto assieme ad altri leader socialisti e comunisti a importanti esponenti del partito ai caduti della repubblica di weimar della guerra di indipendenza spagnola e della resistenza antifascista nella parte interna del monumento proprio sotto alla stele con la frase ci sono dieci tratombe cenotafi qui riposano tra gli altri rosa luxemburg carlipknecht e ernst tellman anzi sarebbe meglio dire che vengono commemorati poiché sulla presenza o meno delle loro salme girano alcune leggende il corpo di tellman ad esempio pare sia scomparso misteriosamente quello di rosa luxemburg in realtà è di identità incerta e infine i resti di carlipknecht non vennero mai ritrovati tra le rovine del monumento distrutto dai nazisti insomma sono di fronte a un imponente simbolo che i cadaveri ci siano o meno a questo punto importa poco nel perimetro esterno il cerchio più grande sono sepolte 70 urne cinerarie leggo i nomi e gioisco internamente quando ne riconosco qualcuno per averlo già letto in qualche via di berlino quando sto per lasciarmi alle spalle il monumento vedo da lontano una coppia di signori che indugia davanti alle tombe del cerchio interno aspetto che se ne vadano torno a vedere e mi rendo conto che hanno lasciato una rosa rossa su tutte le lapidi mi soffermo in particolare davanti a quella di rosa luxemburg che è coperta di neve messaggi e ricordi noto due fotografie che sono state lasciate lì una ritrae un gruppo di persone durante quella che sembra essere una manifestazione l'altra ha come protagonisti un uomo e una donna in montagna chi sono quando sono state scattate le foto e come mai proprio quelle sono state scelte come omaggio a rosa luxemburg ho tante domande e poco tempo fa freddo e devo ancora visitare gran parte del cimitero quindi continuo a camminare e mi dirigo verso il greberanlage pergolenweg che altro non è che un'estensione del grande memoriale che ho appena visitato anche qui riposano personaggi importanti la differenza è che per loro non c'era più posto nel monumento ufficiale che nel 1957 esaurisce ufficialmente tutte le sepolture disponibili il pergolenweg dove mi trovo ora si sviluppa in quattro diverse sezioni che vengono inaugurate progressivamente nel corso degli anni man mano che lo spazio della precedente finisce quindi viene prima inaugurata una sezione viene occupato tutto lo spazio ne viene inaugurata un'altra viene occupato anche tutto quello spazio e così via ogni tomba contiene fino a quattro urne cinerarie il defunto celebre infatti può dare ospitalità anche ai membri della sua famiglia anche se a partire dal 1989 con la caduta del comunismo non viene concesso più il permesso per nuove sepolture i parenti possono comunque essere ancora sepolti nelle tombe già esistenti le lapidi sono tutte uguali e mi ricordano un cimitero di guerra anglosassone anche se ho in mano una lista di personalità sepolte qui è molto difficile individuarle decido quindi di farmi guidare dall'istinto di andare a caso di ascoltare il suono dei miei passi che scricchiolano sulla neve e di godermi la pace di questo luogo dove il tempo non scorre più da quasi 40 anni mi batto in villi sanger militante comunista e campione di salto in alto in ans mark vizza scrittore e poeta proletario poi mi trovo di fronte alla lapide di hilde benjamin giurista ministra della giustizia e vicepresidente della corte suprema della ddr conosciuta per la sua intransigenza e il suo rigore nella lotta contro gli oppositori del comunismo hilde come leggo viene anche ricordata per le sue battaglie e riforme tese all'emancipazione femminile muore pochi mesi prima della caduta del muro e secondo suo figlio non sarebbe comunque riuscita a sopravvivere a questo dispiacere leggendo la storia di hilde non posso non pensare a un film goodbye lenin che vi consiglio di vedere come completamento di questo episodio come spesso mi capita leggendo i nomi scritti su queste lapidi rossicce sono sopraffatta dalle storie dagli eventi dalle vite e non so più quale filo seguire vedo da lontano un altro grosso monumento squadrato su quale spicca una data 5 luglio 1951 non sono un'esperta della storia della ddr e sinceramente quella data non mi dice niente ci penso e ripenso c'è anche una lista con una ventina di nomi li scorro ma niente da fare vuoto totale ne google un paio ma non trovo alcun risultato decido di lasciar perdere anche perché sto per finire i dati nel cellulare e non saprei comunque che cosa cercare ho paura che senza dati perderò anche l'uso di google maps che mi è indispensabile perché il cimitero è enorme e non so se sarò in grado di trovare la strada di ritorno me ne vado ma non sono tranquilla quella data e quei nomi mi tormentano arrivo fino a un edificio che credo essere la chiesa del cimitero salgo le scale e guardo il panorama da quella posizione privilegiata lo scenario è quasi irreale da romanzo distopico vedo le tombe tutte uguali del pergolen weg che spuntano da chiazze di neve intatta vedo l'immensità del memoriale dei socialisti di fronte a me i binari della ferrovia sullo sfondo e le gru che appartengono allo skyline di berlino tanto quanto i palazzi e grattacieli faccio il giro dell'edificio e noto due persone in attesa sui gradini sono un po' suggestionata da questa atmosfera da guerra fredda e ovviamente decido che si tratta di due spie che stanno osservando i miei movimenti dopo tutto poco distante da qui sorge la prigione della stasi e quando l'ho visitata l'ex detenuto che ci ha fatto da guida ci ha raccontato che molte guardie ormai in pensione vivono ancora qui a lichtenberg lui stesso aveva incontrato più volte quello che in prigione l'aveva torturato perché era il suo vicino di casa ve lo potete immaginare guardo di nuovo i due uomini uno giovane e uno più anziano non c'è nessun altro in giro e mi rendo conto che con il mio tedesco elementare non sarà in grado di dare spiegazioni spiegazioni di cosa poi vabbè mi sono decisamente fatta suggestionare meglio andarsene cammino lungo il viale principale lasciandomi l'edificio alle spalle e sento che le spie continuano a osservarmi prendendo sentiari un po a caso mi ritrovo di fronte al monumento con la data sibillina quei numeri e quei nomi ancora mi tormentano e decido di usare i pochi dati rimasti nel cellulare per tradurre la laconica placca esplicativa lì davanti con le mani congelate il naso che cola mi rendo conto che è questa la storia che sto cercando non che in questo cimitero le storie manchino ma ormai lo sapete che quelle che interessano a me sono quelle nascoste e un po dimenticate inizio a leggere e non riesco a fermarmi non curante del fatto che tra poco non avrò più internet e forse non sarò in grado di ritrovare la strada apro anche i microfilm del berliner zeitung della neues deutschland e del neue zeit improvvisamente il mio tedesco diventa non dico fluente ma perlomeno accettabile mentre leggo anzi mi bevo le notizie e scopro finalmente che cos'è successo 5 luglio 1951 le vacanze estive sono iniziate da poco e tutti gli studenti della città si stanno preparando ai ferienspiele ossia una specie di campo scuola cittadino organizzato dallo stato e finanziato dal partito e dai sindacati i genitori che lavorano possono stare tranquilli i loro figli potranno dedicarsi ad attività sportive e artistiche e l'estate sarà bella e piacevole per tutti quell'anno i giochi estivi sono stati organizzati presso henwinkel una località nei pressi del mugelze che si raggiunge in barca quel giorno il tempo non era granché ricorda la signora rosemary all'epoca giovanissima studentessa della scuola di premslauerberg c'erano 17 gradi e più viginava lei e il fratello claus stanno aspettando al porto di trepto di poter salire sulla nave sono felicissimi perché di solito trascorrono l'estate dai nonni e quelli sono i loro primi ferienspiele arriva una prima motonave la edelweiss ma si riempie velocemente e loro sono costretti ad aspettare l'arrivo della seconda la nave che arriva si chiama heimatland ed è capitanata da eric weise malgrado anche qui la capienza massima venga velocemente raggiunta e superata rosemary e claus riescono a salire a bordo stando a quanto leggo ci sono 127 bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni e un numero imprecisato di adulti tra accompagnatori e genitori la motonave salpa percorre appena 300 metri quando improvvisamente qualcosa esplode violentemente nel motore i bambini che si trovano sul ponte della nave vengono investiti dalla deflagrazione e molti di loro muoiono sul colpo divampa un terribile incendio e si scatena al panico i passeggeri corrono si accalcano verso la prua per sfuggire alle fiamme e ben presto capiscono di avere una sola possibilità tuffarsi nelle acque della sprea e sperare nei soccorsi la maggior parte di loro non sa nuotare perché leggo sempre negli articoli questa materia non viene insegnata a scuola purtroppo molti di quelli che sono sfuggiti all'incendio muoiono annegati ma cos'è successo perché il motore è esploso stando alle indagini successive la colpa è del capitano eric weise che aveva sostituito il motore senza controlli tecnici e che per questo motivo era stato condannato a 15 anni di carcere rileggo gli articoli confronto i dati con quello che viene scritto sulla placca commemorativa leggo anche qualche articolo più recente e mi accorgo che qualcosa non torna a seconda della testata che scelgo i numeri cambiano le tappe dell'incidente sono leggermente diverse c'è qualcosa che non va le versioni mutano a seconda di chi le racconta vediamo se riuscite un attimo a seguirmi prestate attenzione perché è molto complicato i giornali della ddr dichiarano che le vittime sono 30 in tutto 28 bambini e due mamme i giornali di berlino ovest invece non hanno dubbi i morti sono almeno 49 sulla placca di fronte al monumento si dice che le vittime sono 30 49 30 trattino 49 giuro che non ho mai visto un numero indicato in questo modo e la placca dice anche che solo 16 di quei morti sono sepolti lì i nomi riportati però sono 26 non ci capisco più niente riesco a trovare alcuni articoli che parlano di indagini svolte in anni più recenti e leggo che a quanto pare il numero realistico sarebbe quello dichiarato da berlino ovest quindi 49 morti ma se qui sono sepolti solo 16 corpi e i nomi ricordati sono 26 gli altri dove sono finiti sembra sembra sottolineo che le altre salme siano state sepolte in una fossa comune in un cimitero di roel che strasse controllo e di cimiteri a roel che strasse ce ne sono ben tre la fossa comune comunque non esiste più quindi anche volendo è impossibile controllare sfortunatamente sto vivendo un inquietante deja vu per caso ricordate il cimitero di grunewald avevo trovato quattro piccole tombe di bambini che erano morti nell'incendio di un asilo di berlino ovest la cosa che mi aveva sconvolto all'epoca era stato leggere sui giornali il continuo rimbalzo di responsabilità le polemiche sui soccorsi ma soprattutto il fatto che i vari esponenti politici di berlino ovest avevano rilasciato sui giornali numerose dichiarazioni in cui chiedevano che la tragedia non venisse strumentalizzata ma strumentalizzata da chi e con quale scopo misteri su misteri le due vicende mi sembrano analoghe anche se sono avvenute ai due lati opposti del muro e non è finita anche per quanto riguarda i soccorsi berlino oest e berlino ovest hanno versioni contrastanti il berliner zeitung la neueste deutschland e il neue zeit giornali dell'est sottolineano più volte che i soccorsi sono stati prontamente mandati sul luogo e che il loro intervento è stato efficiente ed efficace tanto che 34 soccorritori erano stati addirittura premiati per il loro eroico coraggio perché tanti morti allora semplice alle ambulanze dell'est non era stato dato il permesso di attraversare il settore americano e quindi avevano dovuto fare una deviazione perdendo tempo prezioso gli ospedali dell'ovest inoltre avevano addirittura respinto i feriti perché essendo cittadini dell'est non erano in possesso di un'assicurazione sanitaria valida all'ovest l'occidentale taghe spiele al contrario critica aspramente i soccorsi inviati dalla volks polizai la polizia dell'est talmente lenti leggo che quando arrivano non possono fare altro che raccogliere i morti che galleggiano nel fiume e come se non bastasse i famigerati vopos avrebbero addirittura respinto i soccorsi che anche berlino ovest aveva tentato di mandare sul luogo le versioni non sono solo differenti sono proprio opposte e chi ha ragione chi dice la verità secondo le già citate indagini la versione più attendibile sarebbe quella dell'ovest stando alla testimonianza dei sopravvissuti signora rosmarie compresa la volks poliziai avrebbe preso parte le operazioni di salvataggio contro voglia rifiutando gli aiuti dell'ovest e impedendo addirittura loro di avvicinarsi al luogo dell'incidente perché mentire però secondo le ricostruzioni del taghe spiele che si rifanno alle indagini svolte in anni recenti la motivazione sarebbe puramente politica proprio quell'anno a berlino est la federazione mondiale della gioventù aveva infatti organizzato il welt jugend spiele il festival mondiale della gioventù al quale partecipavano le associazioni giovanile studentesche appartenenti a tutti i paesi del blocco sovietico l'incidente e tutto quello che era avvenuto in seguito quindi rappresentava qualcosa di molto imbarazzante per berlino est che aveva a quanto pare deciso di edulcorare i dati sto sempre parlando di una ricostruzione in realtà la storia continua a essere molto poco chiara sono lì immobile davanti a quel monumento squadrato di porfido rosso lo guardo e mi accorgo che la sua forma ricorda vagamente una nave i nomi dei morti sono riportati su tre targhe di bronzo accanto a una scritta che indica il giorno del naufragio 5 luglio 1951 accanto ogni nome c'è la sua data di nascita nel 1951 avevano tutti 8 9 o 10 anni come ho fatto a non notarlo prima i nomi sono 26 i morti sono 40 nella targa dicono che essere sepolti qui sono solo in 16 mi gira la testa scorro nuovamente gli articoli sorvolo sulla discrepanza relativa a numeri e versioni e mi rendo conto che c'è qualcos'altro che stona terribilmente anzi qualcosa che proprio manca nessuno parla di loro dei morti si sprecano parole per accusarsi da un blocco all'altro per mentire per negare responsabilità ma di quei ragazzi quasi non trovo neanche i nomi sono sempre più convinta che non sia stato il caso portarmi lì davanti non sapevo nulla di quella storia spaventosa eppure di fronte a quel monumento di porfido ho sentito qualcosa che mi diceva di fermarmi di raccontare di leggere di conoscere è stato in quel momento che ho capito fino in fondo che cosa poteva aver significato vivere e morire a berlino est la storia di quel periodo passava per i musei per le trabant per la striscia della morte passava per i racconti dei detenuti del carcere della stasi per i marchigegni delle spie e ovviamente passava anche per questo cimitero per questo monumento e per i morti del 5 luglio se non mi fossi fermata qui di fronte forse avrei potuto leggere articoli studiare e guardare mille documentari ma non avrei mai capito fino in fondo che cosa significava vivere in un periodo storico in cui si era disposti a mentire sulla morte di 40 ragazzini uscendo dal cimitero ho ringraziato come faccio sempre ho ringraziato i morti che mi avevano accolto e ho ringraziato soprattutto i morti del 5 luglio che mi avevano appena chiesto di dire a voce alta i loro nomi Erika, Horstieter, Detlef, Helmut, Erna, Ida, Renate, Reinhilde, Gudrun, Helga, Jutta, Doris, Herbert, Hans-Joachim, Erman, Brunilde, Hannelore, Rosmarie, Manfred, Liselotte, Gisela, Heinz, Manfred, Klaus-Jürgen, Eva, Dagmar E poi ho ringraziato anche Berlino Sei mia, le ho detto, e io sarò per sempre tua E lei mi ha detto di tornare quando voglio Avete ascoltato Camposanto, un podcast scritto, prodotto e condotto da me, Giulia De Pentor I brani che ho letto, le notizie sulle quali mi sono documentata e le interviste che ho riportato Sono tratti dal Berliner Zeitung, dalla Neues Deutschland, dal Neue Zeit e dal Tage Spiele Tutti disponibili gratuitamente online sotto forma di microfilm consultabili presso il sito della Zeitschiften Datenbank Se questa puntata vi è piaciuta, sapete cosa fare Anche per questa volta io ho finito Ci sentiamo presto, ciao! Ciao!